Ho sentito la sfida, triplice fischio dell'arbitro, nessuno è riuscito a trovare la vittoria, il pareggio però ci sta, certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate, e tu cosa ne pensi della partita Luca? Quando una gara finisce senza vincitori lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due, io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto però. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi, grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie 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 Grazie